questo programma è offerto da da euronics è tempo di star days scopri migliaia di offerte tech che fanno già primavera come lavatrice samsung 9 chili classe a meno 10 per cento a 499 euro consegna inclusa frigitrice ad aria philips air frayer serie 3000 l a 99 euro xiaomi redmi note 13 con tripla camera fino a 108 megapixel a 229 euro scegli la tua rata e paghi a fine agosto nei negozi euronics stufano aderenti euronics un mondo più avanti lungi da me elogiare putin bisogna fermare la guerra si difende così yorit dopo le polemiche scoppiate per la sua foto con putin il commento l'arte è libertà ma se a far discutere non è l'opera qualcosa non torna giuliano ha abusato di due ragazzine nella comunità alloggio in cui lavorava le vittime di 18 e 16 anni avevano già subito violenza in passato il 29enne arrestato mentre era in servizio furti e paura martedì scorso ladri sorpresi in un'abitazione a sant'agata dei goti sparano in area prima di fuggire ieri sera a cervinara malviventi messi in fuga da un poliziotto l'uguaglianza su lavoro e salute è ancora lontana tante iniziative di sensibilizzazione in campania per la giornata internazionale dei diritti delle donne i tabù vanno abbattuti lottando nella quotidianità 40 minuti di scontri tra facinorosi e violenza dicembre in casertana foggia terminate le indagini per otto casertani e sei foggiani è scattato il divieto di assistere alle manifestazioni sportive per lungo tempo troppo lunghi i tempi per il rifacimento del maradona anziché attendere tre anni aurelio de laurentis ora vira sulla realizzazione di un nuovo impianto nell'area ovest collegato al rilancio della zona di bagnoli i turisti in gita agli scavi di pompei si sono ritrovati in aguita d'eccezione il direttore del parco archeologico che nel giorno dell'agitazione sindacale dei lavoratori si è improvvisato diciamo così cicerone stasera napoli a torino per vincere e continuare la rincorsa all'europa l'avellino domenica ospite della virtus franca villa ritrova bomber patierno dopo l'infortunio ben trovata campania ben ritrovati ai telespettatori di prima tv in primo piano le polemiche ancora forti su iorit lungi da me elogiare putin bisogna fermare la guerra così l'artista partenopeo si difende dopo le polemiche scoppiate per la sua foto con putin l'arte deve far parlare ma se a far discutere è l'artista e non l'opera il messaggio inevitabilmente cambia stentano a smorzarsi le polemiche per la foto e lo street artist jorit con putin al forum di soci l'artista napoletano sui suoi canali social ha chiarito nessun elogio a putin ma un gesto per rompere la propaganda e diffondere un messaggio di pace con l'invito ai politici europei a riprendere il dialogo con la russia e fermare la guerra le foto del bacio di meloni con biden o netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con putin ha scritto l'artista su instagram invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni occidente e dall'altra i cattivi russia in futuro anche la cina la recente visita in russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porta avanti da anni e come le precedenti ambisce a diffondere un messaggio di pace lungi da me elogiare putin ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto è sempre su più fronti i politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la russia bisogna fermare la guerra bisogna costruire punti tra i popoli e bisogna farlo ora lo street artist ha poi pubblicato un atto vandalico ad un suo murale ad ischia un murale che ritrae una donna di colore con la chefia palestinese sul quale è stata buttata la vernice bianca e sulla balaustra adiacente è stata appesa una bandiera ucraina contro giorit c'è stata una levata di scudi proprio per le opere che l'artista napoletano ha sempre firmato in nome della pace che in un certo qual modo collidono con quanto detto sul palco di soci tra i tanti anche il direttore dell'eppol academy di napoli giorgio ventre che dalle colonne il corriere al mezzogiorno è stato chiaro a mario paul per esempio con il murales della bambina con le bombe nato alle spalle e la bandiera del don bass dipinta nell'occhio ha ignorato scientemente che c'era stato a pochi metri un massacro di bambini a pochi metri dal teatro dell'orrore allora o è ignorante o è complice non c'è alternativa e non è accettabile che un artista così esposto possa essere una delle due cose giorit non può essere la bandiera artistica di napoli è inaccettabile per molti non si può inneggiare alla pace e farsi un selfie con vladimir putin e non è la prima volta che giorit fa discutere per posizioni etichettate come filorusse la scorsa estate finito al centro delle polemiche per aver dipinto un murales a mario paul raffigurante proprio una bambina con dipinta negli occhi colore la bandiera del donets regione controllata da mosca circondata da due missili nato l'artista è stato aspramente criticato anche nel marzo del 2022 per aver dipinto un murales a fuori grotta raffigurante il celebre scrittore moscovita fedor dostoevsky in quell'occasione putin aveva elogiato l'opera affermando che il ritratto dell'ormai cancellato in occidente scrittore russo dà ancora speranza che attraverso la simpatia reciproca delle persone attraverso una cultura che colleghi unisce tutti noi la verità si faccia strada ciro cerullo nome all'anagrafe di giorit da sempre un artista che fa discutere insomma riesce nel suo intento l'arte deve far parlare ma sia far discutere l'artista e non l'opera il messaggio inevitabilmente cambia ed ora la cronaca con una storia orribile che arriva da giuliano ha abusato di due ragazzine nella comunità alloggio in cui lavorava 29 anni arrestato le vittime di 18 e 16 anni erano state già vittime di violenze pregresse al momento dell'arresto l'uomo era in servizio avrebbe dovuto accudirle e tutelarle perché vittime di abusi invece le ha violentate minacciate quanto viene contestato ad un educatore di 29 anni dipendente di una casa alloggio di giuliano arrestato dai carabinieri le vittime delle violenze hanno solo 18 e 16 anni l'uomo abusato della prima già violentata precedentemente dal patrigno il giorno del suo diciottesimo compleanno mentre era in stato di alterazione a causa dell'alcol assunto durante una festa organizzata proprio per la ricorrenza poi c'è stata la violenza sulla sedicenne compiuta nonostante la ragazza lo implorasse di smetterla quando la vittima deciso di rivelare l'accaduto sarebbe stata anche minacciata di ritorsione al momento dell'arresto l'operatore era ancora in servizio ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio proseguiamo con la cronaca riflettori accesi sui furti e la paura di un far west ricorderete il caso martedì di ladri sorpresi in un'abitazione nel sangio e che hanno sparato in aria prima di fuggire ieri sera in irpini a cervinara malviventi invece messi in fuga colpi d'arma da fuoco da un poliziotto poliziotto spara in aria per mettere in fuga i ladri l'episodio sul quale si sta indagando si è verificato la scorsa notte a cervinara dove i malviventi hanno preso di mira l'abitazione di un agente di polizia che vive con l'anziana mamma nei giorni scorsi il poliziotto che presta servizio a napoli si era accorto che nei pressi della sua abitazione si aggiravano persone sospette strani movimenti qualcuno avrebbe addirittura scattato delle foto ieri sera poco prima delle 23 i suoi dubbi si sono concretizzati la gente si è accorto che qualcuno stava per forzare il balcone della sua camera da letto immediatamente si è allertato ed ha sorpreso due persone con il viso coperto da passamontagna che stavano per entrare in casa ha cominciato ad urlare contro di loro ma i ladri non si sono fermati ed hanno proseguito la loro azione continuando ad avanzare l'uomo preoccupato soprattutto per la mamma a questo punto esploso un colpo di pistola in aria con un'arma legalmente detenuta solo dopo lo sparo i malviventi si sono dati alla fuga il poliziotto ha allertato i colleghi del locale commissariato che hanno avviato le ricerche dei ladri che sarebbero fuggiti lungo i binari della ferrovia martedì a Sant'Agata dei Coti si è verificato un simile episodio in questo caso sono stati però i malviventi a sparare per intimorire il proprietario dell'appartamento all'interno del quale stavano mettendo a segno un furto visti si braccati uno di loro ha sparato in aria per consentire la fuga del complice che era ancora all'interno dell'abitazione ed era stato bloccato dall'uomo. 8 marzo l'uguaglianza sul lavoro e salute tra uomo e donna è ancora lontana tanti diritti calpestati per le donne tante le iniziative di sensibilizzazione in campania per questa giornata internazionale dei diritti delle donne i tabù vanno abbattuti lottando nella quotidianità in regione campania è stato fatto il punto e sono stati forniti anche i numeri di disparità da colmare. Nel terzo trimestre del 2023 il tasso di donne inattive in campania è pari al 60,8 per cento un dato preoccupante che testimonia la necessità di aumentare il livello di partecipazione al mercato del lavoro. È uno dei dati di sviluppo lavoro italia rappresentata da Monica Bonanno referente per la parità di genere diffuso all'incontro l'impresa e donna le misure della regione per l'autoimprenditorialità femminile nella sala del consiglio regionale della campania. Ad introdurre i lavori Loredana Raia vicepresidente del consiglio. Il lavoro innanzitutto come leva necessaria per l'autonomia e la libertà delle donne. Abbiamo inaugurato un percorso fecondo con la legge 17 del 2021 e abbiamo tracciato una direzione di marcia della regione campania circa l'universo femminile. Presente all'incontro anche l'assessore al lavoro Antonio Marchiello. La regione campania si sta impegnando adesso a cercare delle possibilità per gli inoccupati, per i disoccupati di lungo corso, insomma tutte quelle persone che oggi sono fuori dal mercato del lavoro, in primis le donne. Per Salvatore Topo, segretario regionale CISL Campania, iniziative come queste che sta prendendo la regione campania sono apprezzate dalle organizzazioni sindacali, mentre Vera Bonomo, segretaria confederale nazionale Will, ha ricordato che in Italia il 22% delle donne non è autonomo economicamente. Il tema dell'occupazione femminile è un tema che per le organizzazioni sindacali ovviamente è presente da tempo, anche se fino ad ora dobbiamo dire che tenendo conto anche dei dati che ci vengono trasmessi dai vari istituti, in particolare gli ultimi quelli dell'Inps, dimostrano che c'è ancora tanto da fare. C'è la necessità di renderle autonome, perché la violenza non è soltanto verbale, fisica, ma è soprattutto economica. Una donna che vuole migliorarsi, che vuole decidere per la propria vita, deve essere autonoma e quindi deve avere la possibilità di investire su se stessa. E a proposito dell'8 marzo e di donne, parliamo di una iniziativa singolare messa in campo a Napoli, itinerari femminili della Napoli in rosa per promuovere la cultura e occasioni di emancipazione. Presentato nella sala conferenze del Palazzo Arci Vescovile in Largo Donna Regina, il progetto destinazione donna itinerari femminili a Napoli, sostenuto e promosso dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli e realizzato dall'Arci di Ocesi di Napoli, a cura della delegata Arci Vescovile, la professoressa Adriana Valerio. Sette itinerari gratuiti in programma dall'8 marzo al 6 giugno, con 20 visite guidate, studiate dalla professoressa Valerio per rendere visibile, valorizzare e diffondere la cultura delle donne attraverso la conoscenza di personalità e luoghi significativi della città. Ascoltiamo ai nostri microfoni l'assessore Teresa Armato e la professoressa Adriana Valerio. Nello specifico sette percorsi turistici, per un totale di una ventina di visite guidate, che consentiranno ai nostri concittadini, ma io spero soprattutto ai turisti, di conoscere luoghi della città, in parte non molto conosciuti, ma comunque tutti luoghi nei quali hanno avuto vita, esperienze e storie di donne. Il Ciprescovo battaglia a molta sensibilità nei confronti del femminile e vuole dare alla città di Napoli veramente un'impronta molto forte che metta in luce il patrimonio che questa città offre attraverso la storia delle donne. Dunque questi itinerari che abbiamo pensato, sette itinerari, dientrano in un progetto molto più ampio. Soddisfatto il Vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi, padre Francesco Beneduce, eccola ai nostri microfoni. Luoghi di culto significa un patrimonio di ricchezza che vorremmo che riparli non solo della bravura degli artisti, ma del messaggio di fede e tra virgolette però con questo patrimonio che è grande dell'universo femminile con la sua specificità e il suo apporto. Torniamo alla cronaca. È stato identificato il presunto responsabile del ferimento del 21enne accoltellato alla gola lo scorso 29 febbraio all'Arenella nei pressi della fermata della metropolitana. L'uomo è stato individuato, sottoposto a fermo indiziato di delitto per tentato omicidio disposto dalla procura tre giorni fa. La misura è stata convalidata ieri dal GIP. L'uomo sarebbe imparentato con un ragazzo che poco prima aveva avuto un litigio con alcuni coetani ed era rimasto lievemente ferito. Secondo le ricostruzioni dunque il ferimento sarebbe avvenuto per una vendetta. L'uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina seghettato e si sarebbe avventato sul 21enne ferendolo alla gola. Ancora violenze, 40 minuti di scontri tra Facino Rosi a dicembre in Casertana Foggia, gara di Lega Pro. Terminate le indagini, la questura di Caserta fa scattare il divieto di assistere alle manifestazioni sportive per 14 persone. La questura di Caserta ha individuato 14 tifosi coinvolti nei disordini verificatisi durante l'incontro tra Casertana e Foggia del 4 dicembre scorso allo Stadio Pinto. Gli scontri tra primo e secondo tempo dopo l'apertura di un barco nei cancelli e il contatto tra le tifoserie domato a fatica col calcio giocato tornato dopo 40 lunghissimi minuti. Dopo un'approfondita inchiesta condotta dalla Digos, il questore Andrea Grassi ha emesso nei confronti delle persone inchiodate dalle immagini la misura del Daspo che implica il divieto d'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Complessivamente i 14 tifosi individuati sono stati colpiti da 56 anni di divieto d'ingresso negli stadi di tutta Italia. Per due di loro già gravati dalla misura in passato è stata aggiunta all'obbligo di firma in questura prima e dopo ogni partita della loro squadra. I tifosi identificati sono ritenuti responsabili di disordini, devastazioni di spalti e bagni, di lancio di petardi e sassi. La guerriglia ha avuto inizio dopo che è stato forzato uno dei cancelli da parte dei tifosi della squadra di casa che hanno invaso il campo di gioco cercando di raggiungere il settore ospiti. Le indagini hanno permesso di identificare otto presunti sostenitori della casa Ertana e sei pseudo tifosi ospiti. I reati contestati, lo scavalcamento, il lancio e il porto di oggetto contundenti, travisamento ingiustificato e danneggiamento aggravato. Sono stati inoltre ritenuti responsabili delle lesioni subite dagli agenti di polizia intervenuti per sedare le violenze. Durante gli scontri in sei hanno riportato lesioni tra le forze dell'ordine ma grazie al loro intervento non si sono registrati feriti gravi o ulteriori ripercussioni tra gli spettatori. Apriamo una finestra sul calcio, poi approfondiremo nel corso del TG Sport. Si parla di Napoli ma si parla anche del nuovo stadio che Aurelio De Laurentiis ora vuole fare a Bagnoli. Tutto pronto per il calcio d'inizio questa sera allo stadio Maradona dove la compagine allenata da Calzona sfiderà il Torino in uno scontro che vale l'Europa. Fondamentali tre punti dopo la bella prestazione contro la Juventus, complici anche importanti scontri diretti in zona Champions, un'occasione d'oro per avvicinarsi al quarto posto che Calzona non dovrà farsi scappare se si vuol sognare l'Europa che conta l'anno prossimo. Ed è per questo che il mister pensa alla formazione migliore per battere Granata. L'infermeria ha restituito in tempi record il difensore Rachmani, ancora out invece Ngong e Cajuste. L'impressione è che Rachmani possa essere comunque gestito e risparmiato in vista della sfida contro il Barca. Al suo posto è pronto Ostigard, il difensore norvegese dovrà fare coppia con Juan Jesus al centro della difesa completata da Di Lorenzo sulla destra e Mario Rui dalla parte opposta. Novità anche al centrocampo dove gli intoccabili Lobot e Canghissà saranno affiancati da Zelischi come mezzala sinistra. In attacco l'artiglieria pesante con Simen coadiuvato da Varascheli e Politano. Ma a scuotere l'ambiente azzurro ci pensano le dichiarazioni di De Laurentiis in un'intervista al TGR Campania. Un nuovo stadio del Napoli da costruire nel giro di 30 mesi nell'area riqualificata di Bagnoli in sostituzione del Maradona. Prego il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto il numero uno del club azzurro di coadiuvare questa mia idea di voler portare uno stadio del Napoli modernissimo nell'area di Bagnoli, completo di centro commerciale, unendo anche un centro tecnico che da Castelvolturno sposteremo a Napoli con 12 campi da mettere anche a disposizione del sociale e delle persone meno abbienti. Quanto ai tempi De Laurentiis li indica in 30 mesi poiché la bonifica di Bagnoli è iniziata lo scorso ottobre e richiede 18 mesi e ne servono altri 12 per il mio progetto potremmo mettere la prima pietra tra 18 mesi e costruire il tutto in 30 mesi in modo da essere pronti nel 2032 per gli europei. Bocciata spiega il patronazzurro la possibilità di un restyling del Maradona. Di sport continueremo a parlare al termine del Tg occupandoci della Salernitana che contro il Cagliari si gioca una fetta importante di salvezza e ancora Lavellino che domenica sarà ospite della Virtus Franca Villa e che ritrova il bomber Patierno dopo l'infortunio. Nel girone C di Serie C vincono Juve Stabia e Benevento che restano al primo e al secondo posto con sette punti di salvezza. Ora una breve pausa poi torniamo con un servizio sul Parco archeologico di Pompei. Rieccoci come promesso il direttore del Parco archeologico di Pompei, Zurk Triegel, si trasforma in guida per i turisti per un giorno, il giorno dell'assemblea sindacale dei custodi. L'agitazione sindacale del personale che lavora agli scavi di Pompei non ha fermato le visite guidate anche se ha limitato le aree di accesso per i turisti al solo tratto extramenia, cioè il percorso suburbano di Villa dei Misteri e Villa di Diomede con ingresso da Porta Ercolano. Un'apertura limitata improvvisata dalla direzione del Parco archeologico a causa dell'assenza di buona parte del personale impegnato nell'assemblea sindacale, convocata per affrontare l'avvertenza sul riconoscimento di buoni pasto per gli addetti alla vigilanza. Un'assemblea che avrebbe avuto un'adesione massiccia dei custodi e della quasi totalità dei dipendenti. Per favorire l'accoglienza dei visitatori alcuni funzionari del parco assieme al direttore Gabriel Zutriegel si sono resi disponibili a guidare alcune visite nelle aree di cantiere presenti in quel percorso. Inoltre si è esteso il servizio di navetta Pompei Artebus fino a piazza Anfiteatro per consentire ai visitatori in attesa presso quel barco di raggiungere agevolmente l'area fruibile. Grazie al supporto del comune di Pompei è stata agevolata per la navetta la percorribilità delle strade lungo via dei Misteri per velocizzare gli spostamenti e garantito il supporto delle forze dell'ordine. Sono rimasti regolarmente aperti gli altri siti della grande Pompei, Villa di Poppea Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, il museo archeologico di Stabia Libero d'Orsi, Villa Regina Bosco Reale. L'assemblea sindacale sarebbe stata convocata per fare pressione sul MIC affinché riconosca anche i dipendenti della vigilanza ai buoni pasto. Dalla bellezza e dall'impegno per Pompei passiamo alle preoccupazioni e il disappunto per le condizioni in cui versa il vomero dopo i diversi crolli delle scorse settimane. Tutti questi segnali che il territorio sta lanciando impongono da parte dell'amministrazione comunale una inversione di rotta. I segnali di cui parla Franco Di Mauro, uno dei membri della rete sociale, non box, che da diverso tempo si occupa di salvaguardare l'area del vomero, sono sotto gli occhi di tutti. Cedimenti stradali, voragini, crolli e di conseguenza famiglie sfollate e caos in strada. Tra le prime battaglie della rete, quella contro i continui scavi e lavori nel sottosuolo della zona collinare. Quella della ZTL a San Martino, ci dice una residente, è una proposta avanzata già da 20 anni. È un pezzo del quartiere vomero che non ha assolutamente bisogno che la gente venga con le auto. Lungo via Morgan, alcuni membri della rete hanno messo in scena un presidio di protesta e di sensibilizzazione sul caso. Come ricorda Franco Di Mauro, nonostante i cedimenti, per il sottosuolo ci sono già proposte programmi. A distanza di poche centinaia di metri c'è la possibilità di realizzare dei box interrati, quindi nuovamente le mani sotto la città. L'amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione della quarta fermata della funicolare di Montesanto, un ulteriore scavo qui sotto per un'opera di 19 milioni di euro, assolutamente inutile e dannosa. Indignazione non solo per i progetti sul sottosuolo o per la disastrosa voragine di via Morgan da parte della rete no box, ma anche per il trattamento degli sfollati, come ci dice Elio D'Angelo. E' vergognoso che a tanto tempo di distanza dall'episodio che si è verificato, questa gente non abbia avuto una collocazione da parte del comune o della municipalità, dalle istituzioni. Qualcuno che dica guardate andate in questo albergo, provvediamo noi a pagare, fatevi la doccia, mangiate, vestitevi. Questo non è avvenuto in nessun caso e questo per me è vergognoso, non ho altri termini da poterli definire. Ieri abbiamo parlato delle polemiche per quanto riguarda la politica nel rapporto tra il comune di Napoli e il governo, con il sindaco Manfredi che dialoga e il governatore De Luca che invece invita a prendere posizioni più nette rispetto al blocco dei fondi per la coesione. C'è un tema però sul quale sono tutti d'accordo, anche la Chiesa in campagna è contro l'autonomia differenziata. Servizi pubblici tra autonomia differenziata e costituzione, il tema al centro del confronto organizzato dalla CISL Funzione Pubblica della Campania che si è svolto a Napoli presso il Grand Hotel Capodimonte. Ad introdurre i lavori il leader regionale della categoria Lorenzo Medici. Siamo fortemente preoccupati di quanto potrà accadere in campagna nel sud se la Camera dei Deputati licenzia lo stesso testo. approvato dal Senato le sue parole, ascoltiamo. Va cambiata così come è stata congegnata perché se non c'è un recupero delle diseguaglianze ormai strutturali che dividono le regioni, in particolare quelle del sud, credo che sia la pietra tombale sia al tasso di qualità di vita delle nostre regioni ma anche in prospettiva dei nostri giovani. I nostri giovani lasceranno questo territorio per andare nei poli più attrattivi e va evitato. Ai lavori sono intervenuti tra gli altri il giornalista del mattino Marco Esposito, il gius lavorista Domenico Carozza e il presidente della Svimez Adriano Giannona. A mobilitarsi contro l'autonomia differenziata anche la conferenza episcopale presente infatti il presidente Monsignor Antonio Di Donna. Ascoltiamo. Sono i Vescovi del sud, in maniera molto compatta, le diverse conferenze episcopali del sud Italia proprio in questi mesi sono mobilitati perché si tratta di un problema di cruciale importanza perché questo decreto in discussione di fatto ammazza la questione meridionale. La questione meridionale verrà, se passasse questa legge, verrebbe archiviata assolutamente. E con questo servizio termina il Tg di Prima TV, grazie a Silvana Piccariello in regia, grazie a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata con la nostra programmazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.